Una nuova idea per il futuro del Molise che passa per un modello di sviluppo e quello lanciato dalla Will regionale nel corso di un incontro dei quadri avvenuto a Termoli. Ma sentiamo. Noi puntiamo sul Molise, un manifesto per lo sviluppo che la Will regionale ha lanciato alla presenza del segretario nazionale della Will, appunto Carmelo Barbagallo, un Molise che vuole parlare di meridione, opportunità di lavoro, di investimenti, sviluppo ed eccellenze. Questo in sintesi il manifesto, un'idea finalmente, si parla di idee in regione, lo rilancia la Will con la sua proposta. E a proposito della proposta ascoltiamo le valutazioni della segretaria regionale Tecla Boccardo. Noi è tanto che chiediamo un'idea forte di sviluppo di questa regione perché riteniamo sia indispensabile uno sviluppo ovviamente armonico, uno sviluppo che abbia un'idea al centro intorno alla quale poi debba ruotare il tutto. Anche perché la realtà molisana si è totalmente modificata in questi ultimi anni, con gli anni della crisi. L'Istat ci certifica un ritorno agli anni pre-crisi, però le situazioni sono completamente cambiate. È cambiato totalmente, per esempio, il mercato del lavoro. È cambiato anche la struttura stessa di quello che era il Molise disegnato tanti anni fa con i tre nuclei industriali e le due città ufficio intorno alle quali girava la ricchezza e il lavoro. Tante aziende hanno chiuso, è una grande modifica anche di quello che è stato il ridimensionamento della pubblica amministrazione, i tagli dei servizi, i tagli nella provincia, le riduzioni delle partecipate. Quindi c'è un Molise che deve essere riprogrammato, un Molise che deve essere riprogettato. La programmazione, la pianificazione e lo sviluppo dipendono proprio da un'adeguata e buona pianificazione. In questo momento ci sono due elementi importanti. Uno è quello dell'incremento, della ripresa, dell'occupazione che avviene proprio in questo nucleo industriale dove il privato ha iniziato ad investire. L'altro elemento è quello delle opportunità che ci sono e quindi delle risorse pubbliche che ci sono e quindi il privato che investe è il pubblico che deve iniziare ad investire in infrastrutture, materiali, immateriali, in tutto quello che è il percorso di supporto alle aziende per rendere attrattivo e competitivo il territorio per far sì che qui atterrino delle imprese. Delle imprese che vengono a portare lavoro. Lavoro vero, lavoro serio, lavoro non precario ma lavoro vero. Lavoro con la L maiuscola, come la L che troviamo nel nome della nostra regione Molise. Infatti i dispunti del nostro manifesto partono proprio dalla parola del nome della regione Molise. Molise come Med in Molise, Molise come regione del meridione con tutte le opportunità che in questo momento vengono offerte, a cominciare dal decreto per il sud, dalla zona economica speciale, all'area di crisi complessa, all'area di crisi non complessa, al patto per il Molise, partendo da che cosa? Partendo da quelle che sono le eccellenze e le peculiarità del nostro territorio, partendo dal turismo, dalla cultura, dall'acroalimentare, dalle bellezze naturali.